Sì, ho elaborato questa proposta perché nei giorni scorsi la giunta comunale del comune di Vibbonati aveva adottato una delibera per quanto riguarda la gestione dei servizi estivi, tra cui i parcheggi a pagamento e gli spazi pubblici, riprendendo la stessa delibera già adottata lo scorso anno e senza tenere conto dell'emergenza Covid, che non è più soltanto ormai un'emergenza epidemiologica ma è anche un'emergenza di natura economica. Quindi credo, e ho fatto questa proposta, di esentare tutti i cittadini di Vibbonati e di Villammare dal pagamento del ticket per i parcheggi a pagamento, di concedere gratuitamente ai titolari degli esercizi commerciali più spazio pubblico, più suolo pubblico, per permettere a tutte queste attività di rispettare innanzitutto le prescrizioni per il distanziamento sociale e poi per favorire l'occupazione perché ci sarà, a mio parere, questa emergenza avrà sicuramente delle ricadute dal punto di vista occupazionale per quanto riguarda i lavoratori stagionali e non è perché è una crisi che andrà avanti anche nei prossimi mesi e non sarà più l'estate degli anni precedenti. Ulteriore proposta e ultima proposta è stata quella dell'allargamento della fascia oraria prevista per l'isola pedonale, quindi non più dalle ore 21-22 come capitava negli scorsi anni ma dalle 18 in poi.